Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo proprio di fronte al famoso centro commerciale Jumbo andiamo a visitare l'edificio che sta proprio davanti l'edificio è questo qui, lo Stilos, molto molto conosciuto entriamo dentro a vedere questo bel appartamento Grazie a tutti Questa bellissima proprietà la offriamo solamente per il periodo invernale il prezzo 1000 euro al mese con tutto incluso acqua, luce, condominio e linea internet quindi se vi interessa la casa scrivetemi nell'email che vi lascio qui sotto mettete un bel like e iscrivetevi al canale al prossimo video, ciao ciao!